Un viaggio di 10.000 km inizia sempre con un primo passo. Ogni volta che vogliamo cambiare qualcosa nel nostro metodo di lavoro oppure vogliamo migliorare, ci focalizziamo in maniera ossessiva sui risultati. Se non otteniamo i risultati in brevissimo tempo, perdiamo subito la motivazione e lo slancio e l'impegno e smettiamo di focalizzarci su quello che facciamo. Il segreto è appunto non focalizzarsi sugli alti e bassi del breve periodo, ma sulla crescita e il miglioramento a lungo termine. Reverse Lighting nasce proprio per fare questo primo passo insieme, per iniziare un viaggio sull'illuminazione che, se vorrete, vi porterà molto lontano. Questo percorso formativo è suddiviso in tre moduli e attraverso questo percorso imparerai sia l'aspetto tecnico che pratico dell'illuminazione fotografica. La luce in fotografia, si sa, è l'aspetto più importante da capire ed è imprescindibile perché attraverso la sua corretta gestione si possono realizzare delle belle immagini. Non conoscere le basi dell'illuminazione e fotografia equivale a voler scrivere con una penna senza inchiostro. Ma lascia che ti spieghi il motivo che mi ha spinto a realizzare questo videocorso base sull'illuminazione così particolare e unico nel suo genere. Ho sperimentato con la luce per molto tempo nel tentativo di comprendere la sua dinamica e ad essere del tutto onesta mi ci sono voluti molti anni prima di iniziare a vedere davvero la luce e imparare a gestirla correttamente. Questo infatti è un processo che richiede molto tempo studio e allenamento sia alla sensibilità dello sguardo ma anche al posizionamento determinato di un punto luce, ad esempio. Ho studiato molto da autodidatta prima e alla School of Visual Arts di New York poi l'accademia dove mi sono formata professionalmente e che mi ha dato un'infarinatura a quello che è il mondo della fotografia beauty, moda e ritratti. Come in tutte le università qui ho acquisito delle solide linee guida e basi su cui fondare la mia esperienza però poi la maggior parte del lavoro l'ho dovuto fare in autonomia con l'approfondimento e tanta pratica. Ho letto molti libri sull'argomento e nonostante ciò mi ci è voluto molto tempo prima di capire qualcosa e scattasse qualcosa dentro di me. Per natura sono sempre stata molto curiosa nel cercare di capire quale chema a luce fosse stato utilizzato nelle fotografie dei grandi fotografi che ammiravo. Un po' come un gioco, un po' per scoprire i loro segreti. Guardavo le mie riviste di moda preferite con quelle meravigliose immagini e mi domandavo sempre come fosse stata illuminata quella immagine. Questo era piuttosto un mistero ai miei esordi quando ancora non avevo imparato a capire la luce e non avevo l'esperienza soprattutto necessaria e l'occhio allenato per riuscire a capire l'intero schema luci di quella stessa immagine. Oggi dopo tanti anni di esperienza, studio e pratica sul campo posso finalmente guardare queste meravigliose immagini e ricostruire esattamente l'illuminazione che è stata adottata determinare quali modificatori sono stati utilizzati e se ci sono pannelli riflettenti o mascheratori o molto altro. Infatti quello che ho sviluppato e che oggi condivido in questo videocorso è un vero e proprio metodo per leggere la luce e decodificare lo schema che è stato utilizzato. Io come l'ho imparato? Come ti ho accennato prima sicuramente ho acquisito le basi e ogni farinatura generale sulle tecniche di illuminazione alla School of Visual Arts di New York ma poi successivamente ho studiato tanto, tanto, tanto e ancora tanto e ne ho passato almeno più del doppio di questo tanto tempo a praticare giocando con i modificatori flash, provando tantissimi schema luci differenti dai più semplici ai più complessi e grazie anche ai tanti errori fatti ho capito cose davvero interessanti che voglio condividere con voi in questo corso Dopo tanti anni di esperienza sul campo ho imparato a capire meglio il funzionamento della luce Durante questo periodo ho realizzato molte belle immagini ma anche tante altre veramente terribili ma in entrambi i casi sono riuscita ad acquisire delle lezioni molto importanti su come funziona la luce questo processo mi ha portato a sviluppare questo metodo che oggi condivido per la prima volta in Reverse Lighting il processo per conoscere e imparare a leggere la luce guardando una foto e capirne appunto il tuo schema luce ho decodificato tutti gli elementi da osservare al fine di arrivare ad una soluzione che ricrei lo schema luce di una determinata immagine un processo davvero interessante e differente piuttosto lungo se lo si fa da soli ma questo video corso ti aiuterà a risparmiare tutto quel tempo in modo da migliorare le tue competenze sull'illuminazione nel minore tempo possibile per questo è realizzato questo video corso per permetterti di velocizzare il tuo processo di apprendimento in modo che tu possa capire la luce in modo semplice, facile e veloce evitandoti tutti quei terribili errori che ho commesso io durante il mio percorso certamente non dobbiamo dimenticare che sebbene questo video corso ti aiuti a risparmiare del tempo sarà comunque necessaria tanta pratica per tradoneggiare tutte queste conoscenze e appunto utilizzarle tutte con destrezza infine ci tengo a precisare che è sempre bene tenere presente che non sempre sarà possibile individuare lo schema luce questo perché alcune immagini sono pesantemente post prodotte ma tutti gli strumenti che ti fornirò ti saranno decisamente di aiuto per capire quando c'è qualcosa che non torna e che non va nell'immagine e saranno sicuramente un buon punto di partenza per cui se vuoi diventare uno sezionato della luce come me vuoi imparare il suo linguaggio, le sue regole, reverse lighting ti darà sicuramente le competenze maggiori per migliorare il tuo lavoro e delle basi solide e alla fine sarai meravigliato da quanto cambierà la tua fotografia grazie